Ecco, il gruppo scende dalla chiesa di San Quirico, ci avviciniamo su questa strada, la vecchia strada statale, per uno sguardo veramente del lago Omoteo. Sono stati quattro giorni di pioggia, si sta riempiendo di nuovo, di fronte a noi sulla sinistra il primo paese, e quello è Boronedo, poi qui abbiamo Tadasuni, gli alberghi che non sono mai decollati, mai fatti partire, ecco il Ponte Nuovo e Ponte Vecchio su Tadasuni, di fronte a noi in fondo abbiamo il paese di Sedilo, e poi in fondo, qui sulla destra, Montegonare. Ecco, la posizione davvero della chiesa di San Quirico è proprio su questa terrazza, e regala uno spettacolo sul lago. E lì sa perché è scuro, perché rifiuta la montagna. Guarda che bello è. Guarda che qua il cielo è libero, vedi. La magnifica chiesetta di San Quirico. Sì.